ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video qui è sempre toto resi 92 che vi parla ed oggi andiamo a vedere questa action cam che non solo registra 1080p ma è anche dotata di wifi chi di voi è sempre stato incuriosito dai cloni gopro riconoscerà in questa camera proposta da vitin la sg 4000 plus e in effetti il corpo macchina e le componenti processore assemblaggio pulsanti led ma soprattutto l'obiettivo sono proprio quelli vitin azienda famosa per l'ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti ha semplicemente rifatto la confezione e personalizzato il software che presenta un'interfaccia migliorata e funzioni facili da gestire la confezione anch'essa più minimale ma sicuramente più elegante rispetto a quella dell'sg 4000 completamente in cartone suddivise in due scomparti che contengono tutti gli accessori necessari e non all'uso di questa action cam in tantissime situazioni oltre vari supporti infatti vengono anche forniti adesivi 3m basetta per il treppiede case subacqueo e una seconda batteria che fa sempre comodo partiamo subito dalla componente che potrebbe farvi scegliere questa piuttosto che altre action cam per utilizzarla dovrete andare sul play store oppure sull'app store e scaricare l'applicazione final cam dopo aver abbinato il nostro cellulare con la videocamera saremo subito portati all'anteprima che l'obiettivo riesce ad inquadrare la trasmissione avviene con qualche secondo di ritardo più che normale è tutto sommato accettabile dall'interfaccia possiamo inoltre impostare diversi effetti decidere di scattare una foto oppure far partire la registrazione di un video impostare la qualità sia video che foto scaricare i contenuti presenti nella scheda sd sul nostro cellulare in modo da poterli condividere velocemente sui nostri social preferiti l'applicazione funziona bene in linea di massima anche se ci sono spesso dei refresh o dei lag della trasmissione per quanto riguarda la disposizione dei pulsanti e assemblaggio sono quelli tipici dell'SJ4000 quindi un corpo molto compatto un assemblaggio che non è proprio regola d'arte presente anche un led di stato che ci segnala se la registrazione è attiva o meno la qualità video è quella di sempre in full hd più che buona se non avete particolari esigenze anche se con le impostazioni automatiche tende a sottoesporre la scena a 720p invece è possibile scegliere tra 30 fps o 60 fps ma fate attenzione perché in quest'ultimo caso il processore duplica ogni singolo frame quindi stiamo parlando di un 60 fps interpolato e non reale buona invece la qualità dell'audio se registrato senza case esterno o di protezione o subacqueo considerando sia il costo sia le dimensioni del microfonino ciao a tutti amici youtube questo è semplicemente un sample per farvi sentire l'audio catturato da questo microfono e per vedere anche un po come si muove la stabilizzazione per adesso sto camminando guardate il magnifico paesaggio dietro di me e soprattutto ditemi com'è la stabilizzazione a me è sembrata discreta stiamo parlando di una camerina che costa meno di 90 euro con tanti accessori insomma secondo me non è niente male la stabilizzazione soltanto digitale non ottica però c'è ed è comunque un plus continuate a vedere il video mi raccomando ma arriviamo alle conclusioni ne vale ancora la pena di investire propri soldi in questa sj4000 a mio parere nì vale sicuramente la pena se consideriamo la dotazione di accessori fornita il rapporto alla qualità offerta ma se parliamo di sola qualità sul mercato già presente da tempo un avversario che fa impallidire il segmento delle action cam a basso costo stiamo infatti parlando della show me gli camera che con lo stesso prezzo riesce a proporre anche la registrazione video in 2k a 25 fps quindi il formato cinematografico nonché una riproduzione dei colori e della luce leggermente migliori vero mancano tutti gli accessori ma è comunque dotata di wifi e si trovano sia su amazon sia su aliexpress tutti gli accessori forniti con l'action camera vitin dunque voi che ne pensate propenderete per il 2k o sceglierete la comodità di avere uno schermo da due pollici e tanti accessori fatemelo sapere qui sotto nei commenti se questo video vi fosse piaciuto non dimenticate un bel like e se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao